Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti alla nona edizione di Una Torre di Libri, festival che ormai è entrato nella programmazione estiva delle attività qui in Val Pellice, festival organizzato dalla libreria claudiana di Torre Pellice con l'associazione Diversi Sguardi. Siamo arrivati alla nona edizione di questa manifestazione che si apre oggi e proseguirà per quattro weekend. Subito una segnalazione che abbiamo già diffuso anche sul nostro sito e sui giornali, però magari a qualcuno di voi è sfuggito, lo spettacolo di questa sera, parole note, con Radio Capital non ci sarà questa sera, ma l'abbiamo spostato al 14 di luglio, giovedì il 14 luglio alle 21.15. Se farà bello come fa bello adesso sarà in piazza, piazza del municipio, quindi non sposteremo l'evento che abbiamo spostato oggi perché quando abbiamo organizzato il pomeriggio stava appunto piovendo e quindi abbiamo preferito farlo qua per essere tutti al sicuro dalla pioggia. Io lascio subito la parola al sindaco di Torre Pellice, Marco Cogno, e rimandandovi agli appuntamenti delle prossime settimane che trovate sul programma e in distribuzione al banchetto fuori la brochure del festival. Trovate poi naturalmente perché in un festival come questo ci possono essere dei cambiamenti che verranno via via comunicati anche sul nostro sito unatorredilibri.it e quindi fate riferimento al sito per eventuali cambi di programma. Vi ricordo anche che la manifestazione Una Torre di Libri è sostenuta da una serie di istituzioni e il sindaco andrà a ricordarlo, ma è anche una manifestazione organizzata e sostenuta dal basso, quindi è possibile alla fine dell'evento partecipare con una piccola sottoscrizione a favore dell'associazione che organizza questa manifestazione e sostenere quindi una Torre di Libri. Lascio la parola a Marco Cogno. Cari amiche, cari amici benvenuti. È con grande emozione che oggi inauguriamo l'inizio della nona edizione del festival Una Torre di Libri. Pensare nove anni fa di riuscire a costruire un festival culturale e letterario di questa importanza a livello nazionale con questi eccellenti risultati sia per l'afflusso di pubblico che per la qualità del programma non era assolutamente scontato. Ma per riuscire ogni anno nella realizzazione del festival Una Torre di Libri, le risorse economiche ed umane del comune di Torre Pellice non sarebbero assolutamente sufficienti. Pertanto lasciatemi ringraziare la Chiesa Valdese col fondo 8x1000, la Compagnia di San Paolo, l'associazione Diversi Sguardi che da due anni vince il bando Torino e le Alpi, la Claudiana Editrice, la Libreria Claudiana di Torre Pellice, il Centro Culturale Valdese e un affettuoso ringraziamento va a tutti coloro che da nove anni lavorano dietro le quinte di questo festival come le ragazze e i ragazzi di Spad. Questa manifestazione non potrebbe esistere senza questa rete, rete di persone che credono che sia giusto e doveroso investire in cultura a Torre Pellice. Ed è ancora più giusto e doveroso investire in cultura proprio nel nostro paese. Alcuni mi chiedono perché a Torre Pellice si fa un festival come la Torre di Libri e non un'allegra sagra paesana per esempio. Io rispondo che a Torre Pellice si fa una Torre di Libri perché nel nostro bel comune abbiamo la fortuna di avere una civica biblioteca che l'anno scorso ha effettuato più di 13.700 prestiti su una popolazione di 4.500 abitanti. Abbiamo la fortuna di avere una biblioteca delle resistenze, biblioteca tematica oggetto di numerosi dottorati di ricerca. Abbiamo la fortuna di avere la biblioteca del Centro Culturale Valdese, riconosciuta in tutto il mondo. Abbiamo la fortuna di avere l'archivio storico della Chiesa Valdese, contesti di grande rilevanza storica. Non per ultimo abbiamo la Libreria Claudiana, non solo libreria ma centro di diffusione culturale. Pertanto a chi mi fa questa domanda rispondo che come comunità non possiamo essere ciò che non siamo ed è perciò che investiamo tutti insieme in cultura e nel Festival Una Torre di Libri. Il Festival Una Torre di Libri non vuole però soltanto limitarsi in un festival letterario e culturale, ma vuole aprirsi, aprirsi sempre di più ai temi attuali e ai temi contemporanei della società. Il paradigma di quest'anno è guerra, pace, casa e frontiere. Non poteva esserci scelta migliore per un territorio e una comunità che quotidianamente sa cogliere ed integrare, come dimostra l'enorme lavoro svolto dal nostro comune in collaborazione con la Diaconia Valdese nei progetti di accoglienza dei migranti, messi in opera in questi anni di grande crisi umanitaria. Così quest'anno per la non edizione quale intellettuale scrittore italiano o meglio del professor Claudio Magris poteva in questo contesto aprire qui oggi il nostro Festival Una Torre di Libri? Come amministrazione ci è sembrato inoltre naturale e doveroso non solo invitare il professor Claudio Magris al nostro Festival, ma conferirli anche la cittadinanza onoraria del nostro comune. La scelta di conferire la cittadinanza onoraria al professor Claudio Magris è in continuità con le amministrazioni precedenti. Ricordo infatti che tra i nostri cittadini onorari abbiamo l'onore e la fortuna di annoverare Camilleri e Umberto Eco, ma anche tutti quei bambini figli di stranieri che non possono essere italiani nonostante siano nati in Italia e cresciuti nelle nostre comunità. Pertanto invito i miei colleghi del Consiglio Comunale che nella seduta di ieri sera hanno deliberato all'unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria al professor Claudio Magris di alzarsi in piedi e di venire qui davanti a me per la lettura della deliberazione. Il Consiglio Comunale, riunito in data 1 luglio 2016 con riferimento all'articolo 2 del regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria il quale recita che il Comune di Torre Pellice adotta l'istituto della cittadinanza onoraria. Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola e dello sport con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Torre Pellice o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione e dell'umanità. Premesso che la Val Pellice è un territorio frontaliero caratterizzato storicamente da scambi e coesistenza di differenze culturali, differenze linguistiche, differenze storiche, religiose e sociali, premesso che il Comune di Torre Pellice, principale centro della Chiesa Valdese, è da sempre sensibile ed attivo nella tutela dei diritti delle minoranze, delle persone svantaggiate, del diverso e che negli ultimi anni si è particolarmente spesa nell'accoglienza dei rifugiati politici, premesso che il Festival Una Torre di Libri, promosso da questo Comune e da altri soggetti culturali, quali la libreria elettrice claudiana, sostenuto finanziariamente oltre che dall'amministrazione, anche dall'otto per mille della Chiesa Valdese, dal bando delle Fondazioni San Paolo, Torino e le Alpi, è una delle maggiori manifestazioni letterarie a livello regionale e oggi anche nazionale. Premesso che il tema del Festival Torino e le Alpi di quest'anno è guerra, pace, casa e frontiere, considerato che Claudio Magris è finissimo letterato di vastissima e straordinaria cultura e uno dei più profondi saggisti contemporanei capaci come pochi di scandagliare non solo il patrimonio della letteratura mitteleuropea, ma anche di ritrovare le ragioni profonde sedimentate dietro ogni libro con cui viene a contatto. Considerato che Claudio Magris è germanista e critico, ma anche indubbiamente uno dei letterati di più grande umanità e sensibilità, come testimoniato periocamente anche dai suoi sempre più acuti, a volte commoventi, interventi su Corriere della Sera, considerato che Claudio Magris è laureato all'Università di Torino, dove è stato ordinario di lingua e letteratura tedesca dal 1970 al 78, dopo un periodo di apprendistato all'Università di Friburgo ed è ora docente della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Unità di Trieste, considerato che ha inoltre contribuito con numerosi studi a diffondere in Italia la conoscenza della cultura mitteleuropea e della letteratura del mito sburgico, fine traduttore, ha pubblicato numerosi saggi e romanzi, fra i quali Danubio e i microcosmi, con cui ha vinto il premio strega nel 1998. Inoltre è stato senatore della Repubblica dal 94 al 96 eletto nel Collegio di Trieste in una lista dipendente. Considerato che Claudio Magris, nel suo libro Infinito Viaggiare, ci lascia un chiaro insegnamento su come vivere le frontiere, non certo costruendo muri, ma oltrepassando le frontiere politiche, linguistiche, sociali, culturali, psicologiche anche quelle invisibili, quelle tra le persone o quelle tortuose che nei nostri inferi sbarrano la strada a noi stessi. Quindi, con voti unanimi e favorevoli, il consiglio delibera di conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Torrepellice e Claudio Magris. Grazie. 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 Invito ancora la nostra Assessora della Cultura, Maurizia Lisio, a consegnare l'atto ufficiale al professor Claudio Magris. Io vorrei solo dire tutto il mio veramente profondo e quasi turbato grazie al sindaco, ai componenti del Consiglio Comunale, a tutti voi, perché vedete, questo vero premio, una cittadinanza onoraria è una delle cose più belle, perché non è come un premio che viene chiesto, sollecitato o dato, naturalmente vi fa piacere, ma è un gruppo, una comunità, una città che dice sei uno dei nostri. E questo, per uno che per questa comunità purtroppo non ha fatto niente di diretto, è veramente una cosa che tocca profondamente. Tra l'altro corona è la mia bigamia delle città, io sono, come ha detto mio amico, un torinese di Trieste, sono le due anime della mia vita e questo è un giorno veramente molto importante, perché io credo veramente molto questo essere accettati, riconosciuti in qualche modo. Oggi giravo, purtroppo conosco poco, ma mi ha fatto un'impressione veramente profonda e non voglio celebrare in modo stucchevole e retorico, ovviamente ci saranno qui le cose che vanno, che non vanno, però ho avuto la sensazione di una civiltà di vita e io credo che se il mondo, nonostante tutto, va avanti, va avanti come la tradizione ebraica parla dei 36 giusti, sconosciuti, grazie ai quali il mondo va avanti. E io credo che grazie a uno stile di vita, di lavoro, di amicizia, di rapporti, di attenzione all'altro, perché non vedo perché voi avreste dovuto pensare a me, insomma, questo è veramente una cosa incredibile. Io mi sento veramente uno di voi, non ve lo dico perché sarebbe stupido, non sono così sciocco da fare complimenti di circostanza, ma adesso che giravo, piccolo giretto che ho fatto dalla libreria, ho provato il sentimento improvviso, mi fa piacere essere qui a casa mia, quindi vi ringrazio veramente di cuore, grazie, questo è veramente uno di il momento, grazie. Adesso, volevo soltanto ancora fare, ribadire che la serata di stasera di Radio Capital è stata spostata al 14 sera, alle 21.15 in piazza, e che stasera qui ci sarà il coro Valpellice e che quindi chi non sarà a vedere Italia-Germania, se vuole sentire un finissimo coro, può essere qua. Adesso do la parola al direttore di riforma Alberto Corsani, che lo ringrazio, che colloquerà col nostro cittadino, professor Claudio Magris. Grazie. Bene, grazie al sindaco, all'amministrazione comunale di Torre Pellice per aver voluto coinvolgere il nostro giornale in questa iniziativa che naturalmente ho accolto con entusiasmo essendo come tutti i presenti qui presumo un appassionato lettore dei libri di Claudio Magris. Il fatto di conoscere, questo lo dico per lui, di conoscere personalmente tantissimi dei presenti mi rassicura sul fatto che effettivamente con moltissimi di loro ho parlato di questi tuoi libri e quindi questo ci permette di saltare tutta una parte introduttiva in cui si deve raccontare il perché e il percome di un autore. Credo che sia lavoro già ampiamente fatto dalle persone che sono oggi in questo tempio. Tuttavia vorrei dire che la doppia dimensione dello scrittore di romanzi ma anche di testi teatrali e quella della vocazione alla scrittura di saggi sono due dimensioni che vanno considerate in parallelo ma sotto una stessa cifra e vedremo fra poco in che modo. Io ho previsto per il momento tre domande di cui abbiamo già parlato insieme che sono domande sufficientemente aperte per consentire al nostro ospite di rispondere molto diffusamente anche nel modo che più ritiene adeguato. Quindi non sarà un serrato domanda e risposta ma saranno tre questioni aperte che riguarderanno tre diversi aspetti dei suoi libri. Due libri in particolare. l'ultimo che è in lettura in questi ultimi mesi non luogo a procedere romanzo ma anche io qui ho la vecchissima prima edizione Danubio che alcuni l'hanno definito romanzo e non lo so è un genere assolutamente indefinibile è una lunghissima meditazione ad alta voce con l'interiorità e con la storia dell'Europa. Quindi i trent'anni di questo libro che davvero ha fatto epoca ed ha avuto una serie infinita di traduzioni in lingue estere come anche i successivi è veramente una bella occasione. E allora se torniamo a quel 1986 e guardiamo al libro di cui si parla in questi mesi in un luogo a procedere mi viene da pensare questo. Danubio esce quando per esempio ancora c'era il muro di Berlino. Il corso del Danubio è in Germania ma nella cartina che è pubblicata in fondo al libro quello stato è definita Repubblica federale tedesca. Sopra c'è ancora la DDR e poi c'era l'URSS naturalmente. Dopodiché è successo una montagna di cose. Ma io proprio dall'Europa vorrei partire perché le coincidenze che ci sono in queste settimane e in questi mesi credo che turbino un po' tutti. Abbiamo sentito parlare di un ipotetico muro sul Brennero, in corrispondenza del Brennero. Abbiamo visto delle brutte manifestazioni di chiusura al popolo dei migranti nei paesi dell'est, paesi anche toccati dalle riflessioni di Claudio Magris in questi altri libri. Abbiamo visto il referendum nel Regno Unito, abbiamo visto ieri questo grottesco episodio nel paese che vantava credo l'amministrazione fiscale più pignola e precisa e accurata cadere sopra un'ipotesi di necessità di riconteggio delle schede e di ripetere un ballottaggio per le elezioni presidenziali dell'Austria. Dunque fenomeni inquietanti, fenomeni di chiusura e io mi chiedo, un libro che ha raccontato le gesta, i fasti, la storia più bella dell'Europa. Cioè Danubio racconta l'identità dell'Europa ma anche la capacità dell'Europa di assorbire, assumere le culture diverse, di fare filosofia, di fare grandissima arte ma di prendere la matematica dagli arabi, tanto per dire. Allora queste sono le cose che fanno identità per noi che siamo nell'Unione Europea o meno, insomma diciamo consideriamo l'Europa nel suo complesso. A fronte di questo l'ultimo libro ci sprofonda nell'abisso delle cose più tragiche, nelle nefandezze dei crimini della persecuzione e dello sterminio degli ebrei. Ecco allora in questo percorso di libri che magari parte dagli scrittori ebrei dell'Europa orientale, nei libri che Claudio Magris ha scritto da germanista, ecco come cambia la nostra idea, la nostra rappresentazione dell'identità europea che dovrebbe accomunarci. Grazie. Prima di rispondere a queste domande che in tedesco si dice la Gretchenfrage, perché quando Margherita domanda a Faust credi in Dio, Faust non sa come rispondere. Vorrei dire che io sono grato a questa minaccia di pioggia che ci porta qui, perché mi pare una cosa veramente bellissima che un Tempio, una Chiesa sia non solo il luogo della preghiera, il luogo funziona, ma proprio il luogo di trovarsi, di parlare di cose che interessano a chi viene. Io trovo che sia veramente questo senso di legame, di religio proprio, che sia molto bello, sono molto contento di essere qui a parlare. Dunque queste domande non le faccio. Intanto cominciamo con una cosa. Quell'osservazione, sono molto grato per la prima osservazione, cioè sulla difficoltà di definire ad esempio Danubio, che è un genere certamente misto. Io credo molto nella trasgressione delle frontiere fra i generi, perché credo che la letteratura sia anzitutto espressione naturalmente della vita e anche della realtà, soprattutto della realtà. La realtà è incredibilmente ricca. La vita originale, diceva Svevo e Mark Twain diceva Truth is stranger than fiction. Ed è vero, la verità è quello che succede in bene o in male, ognuno di noi lo sa, in casi personali o vicini, o quello che succede nel mondo, sono cose che veramente sfidano, fanno una concorrenza sleale alla letteratura. Qualche volta, anzi, la letteratura è costretta a, a me è capitato, a tacere alcune cose, da non dirle, perché sembrerebbero, se scritte in un'opera letterale, qualcosa di kitsch, di esagerato, invece purtroppo sono vere. Allora, e io credo che nella nostra vita, nella nostra giornata, noi sempre siamo, se guardiamo su una sera che cala e quel colore ci fa venire in mente certi sentimenti, siamo lirici, siamo dei poeti, se raccontiamo a un amico qualche cosa che ci è successo, siamo degli epici, siamo dei narratori, se in questa narrazione, insomma, mi sto inventando adesso di questo amico, si parla anche, che so, della crisi politica che ha avuto questo amico, diventiamo saggisti, diventiamo anche, ci occupiamo di idee, e quindi io credo veramente che la forma mista sia la forma più corrispondente al mio modo di sentire la letteratura. Dunque, io ho cominciato, il libro è uscito nel 86, io ho cominciato nell'82, e l'ho cominciato per caso, come succede, perché i libri nascono per caso, noi che uno prima l'idea e poi, è come andare, certo, ci si avvia in una direzione, io con Marisa, mia moglie e con altri amici, non siamo andati in quel momento, che so, in Islanda o in Africa, ma siamo andati in quei paesi, e questo è già un avviarsi, però io non avevo nessuna idea, e vi racconto questo perché credo sia abbastanza importante, e poi passo subito a rispondere. E ricordo che eravamo alle porte della Cecoslovacchia, di quella che allora era definita l'altra Europa, certamente per le ragioni politiche che la contraponevano all'Europa, diciamo, politicamente occidentale, ma anche con un po' di disprezzo, di in qualche modo un'Europa di seconda classe, insomma, di seconda ordine. Io credo che molto di quello che io scrivevo era anche, nasceva dal tentativo, insomma, di togliere questa specie di altro spregiativo. Ed era una giornata bellissima, una giornata di settembre, proprio magnifica, quelle giornate che stringono il cuore, e si vedeva il Danubio splendere, non si capiva dove finiva il Danubio, dove cominciava, nei prati del Danubio, come si dice, Donauhauen, dove cominciava lo splendore dell'erba. Ed eravamo in quei momenti così di abbaddono, di amicizia, di coralità, in cui uno si sente in armonia col fluire della vita, anche se la vita, come il Danubio, va verso la foce. E in quel momento, improvvisamente, una piccola scritta strana, Museo del Danubio, che indicava una... e allora questa parola Museo era così strana in quel momento, era come se, che so, i due innamorati su una panchina, come nella canzone di Padre Brassen, scoprissero di, che so, di far parte di una mostra sull'amore sui banchi pubblici. Ci siamo detti, quello è il Danubio, perché lo dice, era quella scritta, siamo... E in quel momento è Marisa, che spesso aveva le idee prima di me, e mi ha detto, e se andassimo avanti, così, biglonando fino al Mar Nero? E io in quel momento ho avuto l'idea di scrivere, non sapevo cosa, non sapevo se avrei scritto un libro di... un puro reportage, in cui chi dice io, e proprio l'autore in prima persona, come i miei articoli sul Corriere della Sera, che se vuoi che cosa, sono io col mio nome, con le mie responsabilità, oppure se, come invece è successo, sarebbe stata una narrazione, in cui naturalmente l'io che dice io ha molte cose in comune con me, con i miei tic, però, insomma, è un altro, tanto vero che alla fine lui muore, e io sono oggi qua a Torre Pellice, 30 anni dopo, ma soprattutto in quel momento io ho avuto una grande fortuna di attraversare quel mondo in un momento di, almeno apparente, relativa quiete, tranne la Romania, che era una situazione drammatica, tragica, la distruzione che Ceusescu faceva della città per costruire il proprio centro, io ho visto una chiesa tagliata in due, tracete, perché metà della chiesa disturbava la costruzione di un pezzo di questo, e così via. Però, di qui, in cui c'era una evoluzione, sembrava che questi paesi si stessero evolvendo, salvando quello che c'era di positivo nella loro esperienza, ma è cambiandoci. E quello che, questo viaggiare in momento di tregua, mi ha permesso di vedere molte cose. Se io avessi fatto il viaggio nell'89, avrei visto naturalmente solo i brucianti eventi che succedevano, e se una casa brucia non si può fermarsi a guardare la biblioteca, no? E quindi avrei capito meno, perché avrei visto solo quello che succedeva in quel, certo, importantissimo momento. Invece questo avviarsi, questo vagabondare, prendere un sentiero, deviare da una parte, era come affondare nel paesaggio anche storico, scoprire realtà plurisecolari, nascoste, remote, ma non morte. E questo, credo, mi ha permesso anche di capire di più quello che è avvenuto anche dopo, cioè tanti aspetti in quel momento nascosti, ma poi ridiventati centrali, e così via. Allora, naturalmente, e poi è successo quello che è successo, che sappiamo, e naturalmente noi, molti di noi, avevano sperato che il cambiamento di quel mondo, o di quei mondi, perché era una pluralità molto varia, avvenisse in un modo diverso. E purtroppo quello che è successo, banalizzando per ragione di brevità, è che ai muri ideologici sono subentrati dei muri etnici, nazionalistici, che effettivamente hanno, è come se dai secoli, da questa affascinante molteplicità di cui andavo da ricerca, di queste mescolanze, perché tutto il libro è un attraversamento di frontiere, come è stato ricordato, frontiere non solo politiche, linguistiche, religiose, psicologiche, le frontiere interiori, insomma, questa è la frontiera che qualche volta è un ponte per incontrare l'altro, ma che può diventare un muro per escluderlo. E quello che è successo è che uno dei punti veramente più tristi degli ultimi decenni di storia è stato che questo mondo, che aveva tanta ricchezza di apertura, di mescolanza, però che era permeato anche di tanti retaggi di odi, di rancori, di soprafazioni reciproche, c'è una bellissima pagina di un grande scrittore tedesco ebreo di Praga, Johannes Urgidi, che io ho conosciuto, e che aveva tenuto giovanissimo il discorso al funerale di Kafka, dove lui che si definiva, giocando con la parola tedesca, io sono hinternazionale, cioè dietro le nazioni, perché hinter in tedesco vuol dire dietro, però contemporaneamente ricordava che in questa affascinante Praga, della sua infanzia e adolescenza, internazionale, in questi giochi in cui non era questione di essere tedesco, ebreo, però era tutta piena di bellissimi monumenti che gli ricordavano, però non dimenticare questo, ricordati di quello che hanno fatto i cattolici, ricordati di quello che hanno fatto i cussiti, ricordati di quello che hanno fatto i truppi imperiali, scatenando proprio delle bramosie di ritorsione e di vendetta. E quindi certamente per me è stata una fortissima, non dico delusione, perché poco a poco non è che uno credesse a un mondo rosa, ma certamente il fatto che questa Europa che io ho vissuto, che vivo, anche dalla prospettiva triestina, non dimentichiamo che io vengo appunto metà Piemonte e metà Trieste, Trieste in cui uno dei più grandi patrioti italiani, morto volontario perché Trieste diventasse italiana, scriveva alla moglie poco prima di morire, tu sai che io sono slavo, tedesco e italiano, mettendo l'italiano al terzo posto, Scipio Slater. E quindi tutto questo, che questo mondo sia così, in questo momento, probabilmente così oberato, così ancora preso in modo diverso, perché la storia dell'Ungheria non è la storia della Polonia, non è la storia della Repubblica cieca e così via, ma talmente schiacciato da problemi personali, e come qualcuno che sia talmente assillato da problemi, diciamo, non risolti interiori o materiali, personali, da non avere spazio, tempo, disponibilità da diventare chiuso verso gli altri. Questo è un problema naturalmente terribile, anche perché io credo che la nostra identità sia una, in primo luogo, credo che ognuno di noi è un po' come una matrioska. Io sono certamente triestino, a casa parlo con i miei amici di dialetto, sono certamente italiano perché questo non mette affatto in contraddizione con quello di triestino. E l'essere europeo non è un generico riconoscimento culturale, è il fatto che oggi i problemi sono europei. E quindi ha una realtà che di fatto è una realtà, perché se un paese va a catafascio, non è che se la Francia va a catafascio noi possiamo solo avere un nobile sentimento di vicinanza e di condoglianza, immediatamente siamo coinvolti. È una realtà, di fatto deve sempre corrispondere, una realtà anche politica, di diritto. Io ho sempre sognato veramente un Stato europeo, in cui gli attuali Stati fossero quello che oggi sono, ad esempio, le regioni. Naturalmente lo Stato federale è decentrato, anche le nostre regioni hanno giustamente leggi che sono regionali, ma delle leggi che non possono essere in contraddizione con le leggi dello Stato. Non è che la regione Friuli-Venezia-Giulia, che giustamente legifera in campo di sua competenza, possa fare una scuola che proibisca le donne di andare a scuola. Cosa che invece, come in certe Costituzioni di alcuni Stati europei, e purtroppo è un momento difficilissimo, io non posso fare, se sapessi quello che succederà, sarai un genio, cosa che evidentemente non sono. Ma certamente io credo che questa risposta, per esempio, le risposte a cui tu accennavi riguardo il problema degli immigrati e così, non sono soltanto dettate il che naturalmente è comprensibile, che potrebbe venire il momento in cui il numero fosse insostenibile. È chiaro che se tutti i nuoyorchesi vogliono venire a vivere a Torre Pellice, questo non è possibile, non ci stanno, ma il problema allora non è di rifiuto dei nuoyorchesi perché non vogliamo i nuoyorchesi, è che ci sono dei problemi pratici, ma questo rifiuto e va assumendo sempre più delle connotazioni che sono veramente inaccettabili, che sono veramente stupide, anche perché questa parola giusta e sbagliata è sempre più sbagliata che la parola identità. In primo luogo io credo che dovremmo dirla, queste non sono parole mie, c'è un bellissimo saggio di un ex diplomatico italiano, era in pensione, Roberto Toscano, dovremmo sempre dirla al plurale, perché non abbiamo solo una identità, che è l'identità nazionale, che anche quella naturalmente in certi casi è complicata. La mia famiglia è di tradizioni patriotti e redentiste, ma noi abbiamo dei cugini croati da parte materna, il che vuol dire che a metà dell'Ottocento, nella stessa famiglia, due fratelli, uno si è sentito croato e quindi lo era, e uno si è sentito italiano, ma abbiamo naturalmente anche l'identità culturale, l'identità politica, io sono certo più vicino a un liberale dell'Uruguay che non fascista di Trieste, naturalmente, c'è l'identità religiosa, c'è l'identità sessuale, e quindi sempre plurale. E poi, questo cito ancora Toscano, le identità non possono essere fotografate, ma devono essere solo filmate, perché sono sempre in movimento, a cominciare dalla nostra personale, noi siamo in divenire, io sono quello che ero nella mia adolescenza o infanzia, ma non sono identico a quello, non solo perché non sono ancora rimbambito, ma perché naturalmente la personalità si arricchisce, il problema è di cambiare in una sostanziale fedeltà. e se avessi delle risposte a quelli che sono lì, a circa soluzioni su come frenare questo processo dissipativo a cui si assiste, sarei veramente, insomma, un grande politico e non sono né grande né piccolo, ma io credo che probabilmente si è peccato per, può darsi addirittura per una certa fretta, che forse era bene costituire un vero e proprio stato allargato a chiunque volesse farvi parte, ma con una sua personale fisionomia, prima che forse mettersi tutti insieme senza sapere esattamente bene perché. Se noi fondiamo qui una casa editrice, poniamo che l'eseratore per dice, si fondi una casa editrice, ma fatalmente ci deve essere che casa editrice, che non si può andare in piazza e dire, allora come la facciamo? Uno dice, facciamo dei gialli, facciamo teologia, facciamo libri di viaggi, e quindi questo certamente per me è veramente una grande sconfitta anche perché, con questo chiudo, la frontiera, poi naturalmente le frontiere sono frontiere culturali, sono frontiere morali naturalmente che esistono, ma queste sono frontiere di vario genere e il problema è di intenderle non idolatricamente, di intenderle non come se fossero Dio, insomma, qualche cosa, perché il senso della frontiera che può essere la più bella cosa di apertura può diventare la peggiore delle idolatrie, in questo senso, e purtroppo naturalmente questo sembra avvenire sempre di più, e purtroppo in questo caso ogni passo negativo ne comporta un altro, perché come quando tra persone, insomma, se io do un pugno a un altro è più facile che lui me lo restituisca, nonostante la parabola evangelica dell'altra guancia, e poi io ne restituisco due e così via. Io non so cosa possa succedere, ma certamente è assai doloroso vedere questo slancio, io devo dire che quando per esempio c'è stato Schengen, in particolare qui come triestino, l'idea che quella frontiera delle nostre parti che era stata un luogo di sangue, di violenza italiana verso gli slavi, violenza degli slavi verso gli italiani, eccetera, eccetera, che uno andasse là appunto, come è logico per me, andare a bere un bicchiere di vino terrano, mica mi importa andarlo a bere in una osteria che si trovi in un territorio che appartenga all'Italia o alla Slovenia. Ecco, questo entusiasmo adesso è veramente messo in pericolo e veramente uno si sente francamente sbalestrato e come sempre la vita va oltre i libri e qualche volta va oltre in senso buono, qualche volta in senso negativo. Io credo però che non bisogna lasciarsi certamente legittimo e doveroso avere questa malinconia, anche essere pessimisti nella misura in cui il pessimismo aiuta a non essere evacuamente e quindi ottusamente ciechi. Insomma, se in una strada ci sono delle buche, è bene fare attenzione alle buche e non dire, ah, la strada è la più bella del mondo e poi si casca dentro e ci si rompe una gamba. Però un pessimismo della forza e non della delusione. Io credo fermamente che l'utopia sia la sostanza della nostra vita, non l'utopia nel senso di paradisi per cui abbiamo già la ricetta che vogliamo magari imporre agli altri di tutto questo disastro, ma il proiettare sulle cose così come sono l'esigenza, la necessità delle cose così come dovrebbero essere è una cosa reale. Noi dobbiamo sapere che probabilmente non saremo né in un'Europa perfetta, però certamente possiamo essere un'Europa migliore. Mosè sapeva che non sarebbe mai arrivata una terra promessa, ma non è che ha smesso di camminare in quella direzione. Io credo che questo spirito contemporaneamente utopico e razionale sia proprio l'atteggiamento da avere in questo momento certo difficile per noi tutti. In questo senso l'esempio di uno dei più grandi libri ma scritto di Don Quixote è fondamentale, perché vi ricordate Don Quixote naturalmente quando dice questo è l'emmo di Mambrino ed è invece una bacinella da barbiere, ha torto e ha ragione Sancio, però ha anche ragione perché le cose non sono solo il loro significato funzionale. Quando i bambini giocano con una scatola di sigarette e la mettono in un fiumiciatolo e la fanno diventare un galeone, sanno benissimo che quello non è un galeone, perché i bambini non sono dei dementi, però sanno che non è soltanto una scatola rotta e che ha anche l'incanto delle grandi navi e delle grandi avventure e quell'incanto non è una fanfaluca, è proprio quello che dà sostanza alla vita per andare avanti. Quindi io sono fermamente convinto di questo, credo fermamente in questa utopia razionale che non si lascia scoraggiare dalle sconfitte. Anche un pugile che alla fine vince gli capita di andare al tappeto per qualche knock-out, ma non è detto che questo significhi un knock-out.